Ora usa rullo duro! Si, Waddu, ce la fai! Facciamola finita! Whirliped, vai con solo a raggio! Oh no! Viva! Devi resistere! Viva, viva! Swaddle, swaddle! Così, bravo! Si, Waddle, si sta evolvendo! Grandioso! Swaddle! Che Pokémon è? È uno Swaddleon! Ma come? Cosa hai detto? Swaddleon, il Pokémon coprifoglia, forma evoluta di Si, Waddle. Il suo corpo è ricoperto di foglie che lo proteggono dal freddo. Nelle foreste dove vive, alberi ed erba crescono rigogliosi. Fantastico! E così Si, Waddle si è evoluto! Ottimo! Swaddleon è uno dei miei Pokémon preferiti. Incontrarne uno nella foresta è un'esperienza assolutamente meravigliosa. La sua presenza è positiva, gli alberi crescono forti e rigogliosi. Ma torniamo alla nostra lotta in palestra! Sappi che io ti batterò, Ash! Vai Swaddleon, usami le bave! No! Whirliped rotola e spezza il filo! Faccomi le bave, continua a non bastare. È giunto il momento di chiudere in bellezza. Vai con rullo duro! Per schivarlo, usami le bave! Swaddleon! Swaddleon! Rapid! Fagli sentire tutta la tua potenza! Usa energipalla! Waddleon! Whirliped, no! Bel lavoro, Swaddleon! Quindi Swaddleon conosce energipalla! Adesso che Si, Waddle si è evoluto, Swaddleon sta seguendo una ricetta tutta sua. Ora chiudiamo questa lotta! Usa azione! Waddleon! Whirliped non è più in grado di lottare! Il vincitore è Swaddleon! Whirliped, su, ritorna! Bravissimo, Swaddleon! Ottimo lavoro! Adesso ad Artemisio è rimasto soltanto un Pokémon! Arloon! Beh, vorrei proprio sapere quale sarà l'ultimo Pokémon di Artemisio. Ora a rappresentare la palestra di Austropoli! Livandi! Livanni! Un Livanni? Ai ai, proprio quello che temevo. Cominciate!